Il collegato sta toccando dei temi secondo noi che non andrebbero affrontati in questo modo. All'interno del testo sono previste delle modifiche che andrebbero affrontate in maniera seria all'interno delle commissioni e non con degli emendamenti calati dall'alto, piazzati in commissione o che arrivano poi magari ulteriormente a fare emendamenti in aula senza nessuna logica. Credo che questa sia la dimostrazione di come il Consiglio regionale venga costantemente scavalcato ed è pauperato il proprio ruolo. L'articolo 7, ex articolo 3 in commissione, parla della riorganizzazione delle partecipate, un tema per il quale già l'anno scorso questo Consiglio all'unanimità votò un ordine del giorno che prevedeva che in commissione prima venisse fatto un percorso per poi arrivare in aula, che ovviamente non è stato fatto ma soprattutto perché in aula non si vogliono portare i provvedimenti che non trovano già la maggioranza più che d'accordo, il che significa che questo Consiglio regionale non serve a nulla se opera in questo modo, motivo per il quale è chiaro che poi mancano le persone durante le discussioni, caro Presidente, perché se noi non abbiamo nemmeno la forza di far valere gli impegni che facciamo prendere in quest'aula non serve a nulla lavorare così. Per questo motivo a riprova di questo dico anche che alcune proposte che avevamo fatto in quest'aula erano state inizialmente recepite e mi rivolgo in particolare a quella per esempio nelle partecipate per la fusione tra Navigli, Lombardi, Scarle e Explora, un'azienda Explora, lo ricorderò sempre, che doveva essere attiva solamente durante il periodo di Expo, che ha fallito la propria missione, che però straordinariamente l'assessore Parolini in accordo con tutta la giunta ha deciso di tenere viva, quindi non si capisce il motivo. Bene, assodata questa scelta non condivisibile, si decise perlomeno di far confluire all'interno di Explora la società Navigli e Lombardi, società sulla quale avevamo già sollevato diverse criticità, la giunta fa una delibera che condivide appunto queste proposte che arrivavano dal Consiglio regionale, oggettivamente non si è fatto nulla poi, cioè è stata fatta una delibera che credeva la fusione, si è fermato tutto, non si sa in barba quale riferimento e in compenso è stato fatto partire un nuovo bando per cercare un nuovo direttore generale, straordinaria un'operazione, cioè noi decidiamo di fare una cosa, la giunta delibera di fare una cosa e poi un bel giorno ci svegliamo e scopriamo che hanno cambiato idea. Al contempo, altro emendamento che abbiamo presentato, quello relativo alla fusione tra IlSpa e Arca, perché? Perché si tratta di due società che fanno più o meno un'attività similare su campi diversi, Arca soggetto aggregatore, ma anche centrale di committenza, Ispa centrale di committenza su lavori inerenti alle infrastrutture, alle opere. Oggi Regione Lombardia, avendo terminato i soldi relativi al piano degli investimenti, per forza di cose ha una società che è utilizzata probabilmente al 30%, oltre al fatto che ha tariffe fuori mercato, oltre al fatto che è straordinario come è riuscita a gestire la vendita di un immobile in Frasotto e Lombardi, motivo per il quale forse, io lo dico già in anticipo, forse a questo punto andrebbe addirittura chiusa, è riuscita a vendere un immobile di proprietà della Regione, 25 milioni di euro, che dopo sei mesi, chi l'ha comprato l'ha venduto a 38%. Ed è straordinario che chi ha autorizzato quest'opera, oltre a prendere i premi di risultato, lo avete anche, all'interno dei famosi discorsi delle organizzazioni partecipate, lo avete addirittura trasformato nel nuovo uomo di riferimento di Serravalle. Quell'azienda che annunciate, volete addirittura trasformare in un ente centrale nello sviluppo della Regione, volete andare ad acquisire le partecipazioni del Comune di Milano per la modica cifra di 80-90 milioni di euro, non si sa calcolata sulla base di che cosa, non ci sono i soldi per i cittadini ma ci sono i soldi per comprare le aziende inutili. Allora il ragionamento è semplice, che visione avete della riorganizzazione partecipate? Ho notevoli dubbi sulla capacità della Giunta di valutare questo tipo di riorganizzazione, perché se valutate la riorganizzazione delle partecipate con la modalità con la quale sono state fatte le aggregazioni degli ospedali all'interno della riforma sanitaria, c'è da mettersi le mani ai capelli, cioè è diventato un risico giocato ai dadi, quello della riforma sanitaria, perché non è stato preso nessun parametro di riferimento per fare gli agglomerati di ospedali, ma semplicemente io lì ho i miei voti, io lì ho il mio amico che se no perde la cattedra, non c'è stata una discussione intelligente e ci troviamo oggi in questa situazione. Allora io credo che sia totalmente sbagliato quello che è stato fatto in questo collegato, abbiamo perlomeno messo degli emendamenti che andassero appunto a limitarne i danni. L'emendamento all'articolo 5, chiediamo, vedo che non siamo gli unici, la abrogazione dell'articolo. Perché? Perché è l'esempio di come questo Consiglio regionale non può lavorare bene, cioè noi eravamo in Commissione prima, l'assessore Garavaglia non si è mai presentato, e dico mai presentato quando c'erano le discussioni del provvedimento nelle sedute antecedenti, la seduta di votazione, aveva sempre una scusa migliore, ha mandato i tecnici che sapevano rispondere, che addirittura hanno anche mentito. L'assessore Garavaglia è arrivato all'ultimo, ci ha presentato un emendamento, ce l'hanno spiegato in un certo modo, sembrava anche di buon senso, e invece poi approfondendo con gli uffici, con le persone del Sireg, ci siamo resi conto che è un rischio gravissimo di atto illegittimo. Perché? Perché noi abbiamo oggi una legge che aveva messo dei cappelli, dei titoli, delle cifre, delle somme, mettetele come volete, per fare un tipo di servizio, andiamo a decidere, a definire che per una persona serve dare maggiori soldi, ma c'è un grosso problema che noi oggi andiamo a non affrontare, e anzi al contempo andiamo a esporre regione a un rischio grossissimo. Noi abbiamo fatto dei bandi per selezionare cinque persone sulla base delle cifre che erano presenti in legge. Noi oggi stiamo andando a modificare questa legge, il che significa che siamo costretti, e ribadisco costretti, poi a far ricorso sulle nomine. Perché noi abbiamo falsato un bando, perché noi abbiamo fatto un bando su delle cifre che oggi vengono aumentate. E secondo le leggi e le norme dell'anticorruzione, a questo punto si può prevedere che ci sia qualche soggetto che si sente escluso da questo tipo di provvedimento, perché avendo saputo in anticipo che i soldi a disposizione erano maggiori, avrebbe allorché potuto candidarsi. Noi riteniamo che sia un modo di fare vergognoso. Le anticipiamo sin da ora che noi sicuramente, se doveste votare a favore di questo tipo di articolo, e quindi non approvate il nostro emendamento, noi provvederemo immediatamente a fare tutti i ricorsi possibili alla Corte dei Conti e chiederemo di sopprimere il bando immediatamente. Chiudo, ritenendo necessario e doveroso da parte sua approfondire in maniera seria i provvedimenti. Ma le chiedo anche che se interviene a rispondere nel merito, le chiedo di rispondere nel merito, non di fare ragionamenti astrusi dove parla di tutto e di nulla e esce sempre dai punti critici che noi le segnaliamo. Non abbiamo volutamente toccato Finlombarda, perché ci ha chiesto espressamente nell'interesse dei Lombardi non farlo, glielo ho già detto in commissione, glielo dico in aula in maniera trasparente, ma sappiamo che ci sono delle criticità anche lì, ma almeno sulla riorganizzazione complessiva delle partecipate che drenano milioni di soldi pubblici o al coraggio di portarci qua una visione complessiva dall'alto della vostra intelligenza e capacità di gestire oppure forse è il caso che eviti di raccontarci balle, voti a colpi di maggioranza gli emendamenti e si assuma poi le responsabilità derivanti. Grazie.